A tutti buonasera, notizie di Prato Tg, arrestato il rapinatore che qualche giorno fa ha sparato durante la rapina al figlio di una fioraia che lavora in via Zarini. È stato arrestato ed è accusato anche di un altro colpo messo a segno qualche giorno prima. Sentite la cronaca. A 60 anni è una lunga sfilza di precedenti penali. L'uomo arrestato nel pomeriggio di oggi con l'accusa di aver messo a segno due rapine nelle ultime tre settimane. Il 21 febbraio ai danni del negozio Cialde Cialde in via Agnoletti e l'8 marzo ai danni del negozio Il Chiosco Fiorito in via Zarini. Due rapine a mano armata. Nella prima il rapinatore ha picchiato con il calcio della pistola alla commessa che aveva tentato di difendere l'incasso. Nella seconda invece il colpo sparato contro il fratello della titolare rimasto ferito a una gamba. L'uomo Ignazio D'Amaso, originario di Messina, madani residenti a Prato, è stato arrestato dagli uomini del nucleo investigativo del capitano Vittantonio Sisto e dagli agenti della squadra mobile diretta da Francesco Nannucci. Polizie e carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del sostituto procuratore sottosanti. In tempi record gli investigatori sono arrivati al sessantenne che è accusato di rapina aggravata, lesioni aggravate, porto e detenzione di arma da fuoco. Un'indagine condotta con il metodo classico, nessuna tecnologia messa in campo, solo il contributo di tutti i testimoni delle due rapine e la ricostruzione e gli elementi raccolti dagli inquirenti. I fatti erano gravi e potenzialmente ancora pericolosi per quello che poteva accadere, tenuto conto che la persona che le aveva portate a compimento si era dimostrata particolarmente pericolosa per il modo in cui queste rapine sono state effettuate. Mi faceva piacere sottolineare come in questo caso al risultato positivo si è giunti grazie alla collaborazione tra la polizia di Stato e i carabinieri. Una rapina solo tentata quella al negozio di fiori perché Lorenzo Meoni, 36 anni, non ci ha pensato due volte a difendere la madre aggredita dal malvivente. Una colluttazione finita con tre colpi di pistola, uno dei quali ha centrato Meoni a una gamba. La pistola non è stata ancora trovata. L'indagine tempestiva non è ancora conclusa. Non è ancora conclusa perché stiamo valutando altri due aspetti, cioè la presenza di eventuali complici in questi fatti e l'eventuale commissione da parte della persona che abbiamo arrestato di ulteriori episodi analoghi. Non ci sono segni di violenza sul corpo della donna pratese di 30 anni trovata morta il 13 marzo a Firenze in una camera d'albergo in via Pisana. A Firenze appunto il decesso sembra compatibile con un'overdose di stupefacenti, forse cocaina come già ipotizzato dopo il ritrovamento del cadavere. Sono i primi risultati dell'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Firenze che confermano quanto già evidente da un esame esterno del cadavere. A trovare il corpo senza vita della trentenne è stato il compagno quando si è svegliato al mattino. L'uomo, 49 anni, residente a Prato, è indagato per morte in conseguenza di un altro reato. Chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie, un ristorante gestito da un cinese nel Macrolotto Zero, la chiusura è stata disposta in seguito al controllo della squadra Interforze coordinata dalla Questura nel pomeriggio di ieri. Il titolare è stato sanzionato per diverse irregolarità e dovrà pagare 8.450 euro. Le carenze riscontrate riguardano la conservazione degli alimenti e questo ha comportato il sequestro di un ingente quantitativo di carne e di pesce. Il personale dell'ASL ha inoltre riscontrato la mancata osservanza del piano di controllo in materia di preparazione degli alimenti e l'esercizio abusivo dell'attività di catering, oltre all'inosservanza della legge che vieta il fumo nei locali aperti al pubblico. Questa mattina la Polizia Municipale si è presentata nell'Istituto Scolastico Marconi di Via Galcianese per continuare i controlli antidroga iniziati qualche mese fa e finalizzati a scoraggiare l'uso di sostanze stupefacenti all'interno delle scuole. Con l'ausilio dei due pastori tedeschi dell'Unità Cinofila sono stati controllati sia gli spazi interni della scuola, comprese alcune classi scelte casualmente, sia gli spazi comuni esterni. Ed è proprio nel giardino della scuola che i due cani hanno segnalato la presenza di alcune dosi di hashish. La droga è stata sequestrata insieme a un bilancino di precisione rinvenuto nascosto dietro a un termosifone dove erano presenti alcuni residui di sostanza stupefacente. Lasciamo la cronaca, cambiamo argomento dal governo, 6 milioni e mezzo di euro per nuove piste ciclabili e passerelle pedonali. Ecco dove saranno realizzati il servizio di Eleonora Barbieri. Quattro nuove linee di piste ciclabili da connettere a quelle già esistenti, due passerelle ciclo pedonali per l'attraversamento di tangenziale declassata, la messa in sicurezza di molte strade come via Roma alle Fontanelle che vedrà l'abbattimento dei Pini, la costruzione di un nuovo sottopasso ferroviario in via Marini e l'illuminazione di molti attraversamenti pedonali. In estrema sintesi sono gli interventi del piano urbano di mobilità sostenibile che l'amministrazione comunale realizzerà quest'anno e il prossimo grazie a 6 milioni e mezzo di euro concessi dal Ministero dell'Ambiente a cui si aggiungono le risorse comunali utilizzate per la passerella ciclo pedonale di via Orione, la zona 30 a Cafaggio con la pista ciclabile di via del Ferro, alcuni attraversamenti luminosi sulla tangenziale, la riqualificazione di piazza San Nicolò, piazza Ciardi e piazza Mercatale. Il totale di 10 milioni e mezzo di euro di investimento. La riqualificazione di alcuni assi stradali dove si è registrato un alto tasso di incidentalità, tutti gli incidenti sono già referenziati, quindi vediamo morti e feriti, e quindi Viale della Repubblica che ha un alto tasso di incidentalità, ma anche Viale Monte Grappa, verranno rimodellate, rimodulate le corsie, ma anche altro tipo di messa in sicurezza, per esempio gli attraversamenti pedonali luminosi, una realizzazione di nuove due passerelle, una che servirà la parte alta di Vergaio e Capezzana per l'attraversamento della tangenziale, per collegare via sotto l'organo con via Udine, e l'altra al Museo Pecci per collegare il parcheggio al di là della declassata. Va precisato che lo stanziamento ministeriale in origine era legato alla realizzazione della tramvia dalla stazione centrale alla Questura in funzione della costruzione del polo fieristico all'ex Banci. Decaduto quest'ultimo progetto è venuta a meno l'esigenza di un collegamento del genere e i 6 milioni e mezzo di euro sono stati congelati. Il Comune di Prato ha convinto il Ministero che potevano essere impiegati in questo nuovo progetto di mobilità sostenibile che prevede una rete di interventi su tutto il territorio. L'idea è piaciuta, il progetto è piaciuto, ha convinto e dopo un lungo lavoro con il Ministero dell'Ambiente è arrivato il decreto e ci assegna definitivamente quei 6 milioni e mezzo di euro, anche se non facciamo la tramvia, ma che noi potremo spendere sulle nostre strade con tanti interventi sulle piste cilabili e su tutti gli assi più importanti della nostra città. A Montemurlo il Comune ha presentato il suo bilancio, è previsto un aumento della Tari, cresce l'evasione fiscale da parte delle aziende italiane. Sentite Alessandra Grati. Il Comune di Montemurlo si appresta ad approvare il bilancio di previsione 2017 che si compone di 18 milioni sulla parte della spesa corrente e da 3,2 milioni di investimenti. Un bilancio che trova il pareggio senza incidere in maniera pesante sulle tasche dei cittadini. Un bilancio positivo sta a dimostrare che questo è un Comune virtuoso che anche se quest'anno siamo stati costretti a ritoccare dopo 8 anni un Latari di alcune 4% per le famiglie, in concreto si parla di dagli 8 ai 10 euro per famiglia e il 5% per le imprese. A Montemurlo il grosso dell'evasione deriva da Latari. Nel 2016 il non pagato ammonta a 1,5 milioni di euro, di cui 1,3 derivati dalle imprese, in prevalenza italiane, e 267 mila dalle utenze domestiche. Le famiglie intorno al 93-94 pagano regolarmente. Ci sono le imprese dove si aggira intorno a 1 milione e 200, parlo del non riscosso nel 2016, poi sicuramente con le azioni che stiamo intraprendendo anche molto più veloci della riscossione recupereremo, però stiamo vedendo che per esempio le confezioni incidono solo per 200 mila euro, il resto sono aziende italiane, tanto per capirsi, e questo è un po' preoccupante. Una delle priorità dell'amministrazione quindi rimane la lotta all'evasione dei tributi erariali attraverso un pool composto dall'ufficio ragioneria e dalla polizia municipale, in collaborazione con Alia. Sono circa 3,2 milioni di euro i soldi che l'amministrazione comunale è riuscita a destinare agli investimenti sul territorio. Tra le opere pubbliche che saranno finanziate c'è anche il restyling di Piazza della Libertà e i lavori di ampliamento della rete delle piste ciclopedonali. Spostiamoci da Montemurlo, appoggio a Caiano, dove contrariamente a quanto comunicato dalla soprintendenza la circolazione del traffico su via Lorenzo il Magnifico non potrà essere riaperta domani. I lavori di messa in sicurezza del tratto interessato dal crollo delle mura della Villa Medicea si protrerranno infatti ancora per qualche giorno. Il sindaco e la giunta hanno incontrato i commercianti del paese per informarli su quanto l'amministrazione comunale sta approntando per limitare i disagi. Ed è a questo proposito che è stato comunicato che è stata avviata una procedura per attrezzare a parcheggio in tempi brevi il cortile posteriore delle scuderie Medicea. È stato comunicato anche che nei giorni di lunedì 20 e martedì 21 sarà stabilito il divieto di sosta su parte del lato sinistro di via Cancellieri per consentire un intervento di messa in sicurezza anche su quel tratto delle mura della Villa Medicea. Congresso del PD in attesa della visita di Orlando. È stato presentato il coordinamento. Sarà un lavoro, è stato detto, di tessitura. Ancora Eleonora Barbieri. Nasce il coordinamento pratese della mozione Orlando in vista del congresso del PD e delle primarie del 30 aprile. A guidarlo sarà la consigliera regionale Laria Bugetti, affiancata da una nutrita squadra di persone tra amministratori locali, attuali ed ex, sindacalisti, giovani impegnati e semplici iscritti. Tra loro troviamo il sindaco di Poggio Caiano Marco Martini, l'assessore alla cultura di Montemurlo Giuseppe Forastiero, l'ex primo cittadino di Carmignano Doriano Cirri, la consigliera comunale di Prato Cristina Sanzò, il capo della funzione pubblica CGL Sandro Malucchi e i giovani Francesco Bellandi e Giosuè Prestanti. Il motto del gruppo riprende le parole del loro leader Andrea Orlando, un lavoro di tessitura. Ricostruire il PD, di motivare le persone che sono deluse, che sono stanche, tutti gli iscritti, quindi stare sui territori, ascoltare, ascoltare e tenere insieme quella che è la nostra casa e quindi unire le varie anime di questo partito. Non ha ancora una data certa ma è molto probabile che nel suo tour elettorale Orlando farà tappa a Prato. Sono stati invitati anche gli ex ministri Damiano e Carrozza. Lui aveva proposto una conferenza programmatica che a visti i tempi non è stato possibile realizzare. Ne ha parlato chiaramente e ha detto che non si ferma qui ma che questa conferenza programmatica andrà fatta. Qual è il senso? Il senso è che ci si deve mettere a un tavolo e riaffrontare quei temi come il lavoro, il sociale, le disuguaglianze che stanno ovviamente affleggendo il nostro paese. E di questo c'è tanto bisogno di parlare e di ridiscutere senza toni alti e con metodi e modi più volti all'ascolto e meno alla protesta e alla disgregazione. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie a tutti per averci seguito. Arrivederci.